Shiva è territoriale o universale? Questa domanda resta in me. La parola Shiva, Shiva, significa ciò che non è. Ciò che è, è creazione fisica. Ciò che non è, è ciò che non è fisico. Ciò che non è, dove può essere? In India o in America? O su questo pianeta o in un'altra galassia? Dove può essere? È ovunque. Quindi, c'è un'esistenza senza dimensione. Quindi l'abbiamo appropriatamente chiamata Shiva, che significa ciò che non è. Oggi gli scienziati moderni dicono che quasi il 99% del cosmo è vuoto. Ma, non che non ci sia niente. C'è qualcosa. Ma non è qualcosa. Dato che la nostra idea di qualcosa è, dovremmo essere in grado di percepirla attraverso i cinque sensi. Vedi, in questo momento ciò che puoi vedere e non puoi vedere è questo. Puoi vedere la mia mano, perché blocca la luce. Ogni cosa che non blocca la luce non la vedi. Non è così? In questo momento c'è aria qui che respiri, che è più che vitale per la tua esistenza. Ma tu non la vedi. Non vedi l'aria, a meno che tu non viva a Delhi. Ora, se guardi su nel cielo, vedi le stelle. Ma le stelle sono un piccolo accadimento. La cosa effettiva è il vasto vuoto. Quindi ci riferiamo a questo cove sci va, ciò che non è. Oggi gli scienziati moderni dicono che questo vasto spazio ha un'enorme quantità di energia. Ma non è nessuna delle energie che sono misurabili da noi. Come le onde elettromagnetiche, o l'energia nucleare debole, o l'energia nucleare forte, o i sistemi elettrici, o le microonde. Nessuna di queste cose. Non è nessuna delle energie misurabili. Ma non si può negare che sia tremendamente potente. Quindi abbiamo detto sci va significa ciò che non è. E abbiamo detto è nel grembo di Shiva che la creazione avviene. Contemporaneamente abbiamo chiamato anche ad i yogi Shiva. Perché percepiva ciò che non è. Tu sei chi sei. Le persone ti chiamano regista, produttore. Perché? Perché hai percepito qualcosa. Se non l'avessi percepito non ti riconoscerebbero come tale. Quindi abbiamo riconosciuto ad i yogi come Shiva. Perché percepiva ciò che non è. Siccome lo percepiva, lo abbiamo anche chiamato Shiva. Quindi chiameremo la realtà ultima Shiva. Colui che l'ha realizzata, l'ad i yogi come Shiva. Colui che non l'ha realizzata, ma ha la possibilità, lo chiameremo Shiva. chiameremo Shiva anche il cane. Perché anche lui è fatto della stessa sostanza. Ma non può sapere. Ma vogliamo che senta quel suono. Quindi ogni volta che lo chiamiamo Shiva, 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 speriamo che si evolverà un giorno. E' a di yogi! E' a di yogi! E' a di yogi!